Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI in direzione Firenze un chilometro di coda per lavori tra la deramazione per Pisa e Ponte d'Era Est e un chilometro di coda per perdita di carico tra Empoli ed Empoli Est. Fino all'8 dicembre, tratto chiuso per lavori al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa allo svincolo di via Quaglierina-Livorno della FIPILI per una frana avvenuta al chilometro 79 865 proprio della FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Statale 64 Correttana provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina in prossimità del confine con l'Emilia Romagna. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!